Ciao Juve, sei in fuga, ma noi del Torino oggi non ce l'abbiamo fatta. Colpa nostra? Sì e no. Sì perché i nostri gemelli hanno sbagliato molto a cose fatte. No perché la fortuna ha fatto l'occhiolino ai biancorossi. E poi l'arbitro, non ci credi? Allora guarda. Un Torino dunque scatenato, un Vicenza che delude ma non demorde. Eccolo dopo 12 minuti però questo Vicenza è in ginocchio. Puli ci sbaglia e Leli si accorge del gol a cose fatte. Il Vicenza gioca di rimessa, radisce dalla panchina cambia tre volte la marcatura al 19enne Briaschi, punta opportunista. Ma prima di asseccarla subisce il gol. Ed è lui il ragazzino che segna. 34esimo, caporale in verticale, appoggio di Pulici, caporale 2 a 1. 31esimo, ecco come si fanno i gol. Salvi a pendolo per prestanti, lui Castellini non ha colpa.